La affamu'l kalima Non capisco questa parola La affamu'l jumla Non capisco la frase La affamu'l ma'na Non capisco il significato Almu'allim L'insegnante L'insegnante Hal anta t'afhamu'l mu'allim? Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? Si, lo capisco bene Si, lo capisco bene Almu'allima L'insegnante L'insegnante Hal anta t'afhamu'l mu'allima? Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? L'insegnante 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 Hal anta t'afhamu'l nas? Capisce l'insegnante? Capisce l'insegnante? La, la affamuhum bi'shaclin' jayed No, non la capisco molto bene No, non la capisco molto bene L'ibna La figlia La figlia Hal l'dayk' ibna? A, una figlia? A, una figlia? La, l'ayse l'adda yeah ibna No, non neo No, non neo È caro l'anello No, costa solo 100 euro Ma io ne ho solo 50 Sei pronto? No, non ancora Sono pronto fra un momento Vorresti ancora della minestra? Vorresti ancora della minestra? No, non ne voglio più No, non ne voglio più Ma ancora un gelato هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا? Abiti qui da tanto tempo? Abiti qui da tanto tempo? No, solo da un mese No, solo da un mese Ma conoscu già molta gente Ma conoscu già molta gente هل تسافروا غدا إلى داركم? Vai a casa domani Vai a casa domani No, solo per il fine settimana No, solo per il fine settimana Ma conoscu già domani Ma io ritornò già domani Ma io ritornò già domani Ma io ritornò già domani No, ha appena 17 anni No, ha appena 17 anni Ha salato una volta? Non mi ha saluto Già una volta Non mai Già una volta Non mai È già stato a Berlino una volta? La Non mi ha saluto No, non ci sono mai stato No, non ci sono mai stato Ahad La ahad Qualcuno Nessuno Qualcuno Nessuno Ha ta'arifu ahadan هنا? Conosce qualcuno qui? Conosce qualcuno qui? La La ahrifu ahadan هنا No, non conosco nessuno No, non conosco nessuno Ma zahl Lam yahud Ancora Non più Ancora Non più Hel sa tessamirru fil baqai Huna ta'wilan? Resta ancora tanto Qui Resta ancora tanto qui? La Lan abqahuna li atwala batatan No, non ci resto più tanto No, non ci resto più tanto C'è un akhar La c'è a akhthar Ancora qualcosa Più niente Ancora qualcosa Più niente A tureidu an tashraba şey'an ahar? Vuole bere ancora qualcosa? Vuole bere ancora qualcosa? La No, non voglio più niente No, non voglio più niente شيء حصل لم يحصل Giacqual cosa Ancora niente Giacqual cosa Ancora niente Ha mangiato Giacqual cosa Ha mangiato Giacqual cosa La Lam yassol An acalto Aya şey'an No Non ho mangiato Ancora niente No Non ho mangiato Ancora niente Ma zala ahad Leysa min ahad Ancora qualcuno Nessuno Ancora qualcuno Nessuno Hal ma zala ahadun Yuridu kahwa? Qualcuno vuole Ancora un caffè Qualcuno vuole Ancora un caffè La Leysa min ahad No Nessuno No Nessuno